Salve a tutti in questo video vediamo come capire chi ci ha bloccato su whatsapp non c'è una funzione specifica ma ci sono degli indizi molto molto chiari direi anche se li sommiamo tutti per capire se ci hanno bloccato allora cominciamo subito innanzitutto dobbiamo capire se quel contatto ha mai avuto qua la scritta ultimo accesso alle ore cioè se quel contatto non ha bloccato la visualizzazione di questa scritta voi sapete che quando aprite un contatto sotto c'è scritto online e poi ultimo accesso alle ore ok questa cosa è molto importante perché è la prima cosa che sparisce se venite bloccati come in questo caso non dovrete ora non sono stato bloccato però qua sotto non vedrete scritto ultimo accesso alle ore però però attenzione potrebbe anche essere che quel contatto abbia disabilitato nelle sue impostazioni la visualizzazione dell'ultimo accesso quindi se quel contatto non ha mai avuto qua sotto ultimo accesso neanche quando voi ci stavate parlando allora non è questo il caso oppure se voi stessi siete andati nelle impostazioni di whatsapp in privacy e in alto avete disabilitato le opzioni di ultimo accesso lo potete fare su di voi ma non vedrete nemmeno più quelle degli altri quindi anche in questo caso potrebbe essere un falso segnale poi la foto profilo questa foto se venite bloccati scompare quindi l'avatar della persona che voi sospettate vi abbia bloccato sparisce e viene l'icona dell'omino su grigio questo è un altro segnale chiarissimo ma il segnale più chiaro di tutti è provare a mandare un messaggio quindi scrivete un ciao o qualsiasi cosa e trovate una sola spunta questo cosa vuol dire che se io adesso scrivo ciao e invio cioè prima spunta seconda spunta vuol dire che è arrivato al server cioè nel senso che il whatsapp ha inoltrato al cellulare di quella persona quindi è arrivato le spunte blu vuol dire che l'ha visualizzato ora sapete che noi possiamo disabilitare le spunte blu e infatti non è quello che ci interessa non interessa la doppia spunta normale se visualizzate la doppia spunta grigia allora non siete stati bloccati vi sta semplicemente ignorando perché comunque il messaggio è arrivato se vi blocca allora ci sarà una sola spunta questo cosa vuol dire però con una sola spunta non vuol dire per forza che siamo stati bloccati vuol dire semplicemente che quella persona ha il cellulare spento whatsapp è disinstallato eccetera eccetera quindi se una persona ha disinstallato l'applicazione se si è tolta da whatsapp sembrerà quasi come se vi avesse bloccato però insomma tendenzialmente una persona quando sospetta di essere stata bloccata è quando da un momento all'altro non arrivano più i messaggi quindi la cosa fondamentale è quella osservate le doppie spunte se c'è la doppia spunta vuol dire che il messaggio arriva se c'è una spunta aspettate alcune ore aspettate un giorno o due giorni se entro un paio di giorni rimane sempre una spunta allora siete stati bloccati perché è difficile che quella persona abbia tagliato i ponti completamente con whatsapp quindi questi sono i segnali che dovete osservare per capire se siete stati bloccati molto molto semplice un saluto a tutti